Oggi realizziamo un matrimonio molto felice, quello fra uno dei più importanti musei archeologici del mondo, che è il MAN, e quella che gli esperti hanno definito la più importante scoperta archeologica sul nostro territorio nazionale dopo i bronzi di Riace. Quindi possiamo dire quasi che abbiamo un matrimonio della storia. Ovviamente questi bronzi si riferiscono all'epoca etrusca, il MAN invece è riferito più all'epoca greco-romana, però è un ritorno alla nostra tradizione e alla nostra identità, che ci fa capire l'importanza fondamentale del nostro patrimonio, che può essere anche una grande occasione di sviluppo socio-economico, perché noi con questa mostra offriamo ai tanti turisti che vengono a Napoli un'ulteriore opportunità e occasione.